Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Gloria Patria Grazie 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 e in secola seculorum. Amen. Salve Regina, Mater Misericordia, Mater Misericordia, Mater Misericordia, Mater Misericordia, Mater Misericordia, Mater Misericordia, Grazie a tutti. 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 , , , , ,... , ,... 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 ... ,... ... ... ,... ... ,... ... ,... ... ,... ,... ,... ...